L'opportunità di candidatura al Bando Switch è avvenuta per la nostra Fondazione in un momento piuttosto significativo, perché eravamo nel pieno dell'attuazione del nostro piano strategico. Il piano strategico della Fondazione, che peraltro è stato sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, verteva intorno a tre assi principali, che erano l'internazionalizzazione, l'innovazione e la cultura. L'opportunità del Bando Switch è stata quella di trasversalmente unire e coordinare questi tre assi intorno a una nuova formulazione dei nostri obiettivi, delle nostre attività attraverso uno strumento digitale. Il processo di innovazione digitale, di digitalizzazione dei nostri processi era tra gli obiettivi del piano strategico. Il Bando Switch ha in maniera molto decisa e con uno strumento molto mirato, è riuscito a compiere questo obiettivo. Tra gli obiettivi istituzionali della nostra Fondazione c'è la formazione nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali. La formazione nell'ambito del restauro tradizionalmente è una formazione che avviene in presenza, con una parte pratica applicativa molto significativa e invece è risultato un'opportunità assolutamente strategica e anche molto significativa di valorizzare quegli aspetti di componente scientifica e di ricerca che sono insiti nella preparazione e nell'attuazione degli interventi di conservazione e restauro e che attraverso uno strumento digitale hanno avuto modo di essere erogati con dei margini di efficacia e di sostenibilità decisamente molto più elevati rispetto agli strumenti di formazione tradizionale. Quindi individuati gli obiettivi è individuato il bisogno principale che era quello di avere uno strumento che consentisse in maniera specifica di effettuare formazione nel campo della conservazione e del restauro, quindi con delle caratteristiche specifiche che non potevano essere così facilmente equiparate ad altri tipi di erogazione formativa. abbiamo compiuto un percorso di rafforzamento delle competenze digitali sotto tutti i profili, quindi sotto il profilo tecnico ma anche sotto il profilo amministrativo, legale, giuridico e in un ultimo legato al tema proprio della gestione dei processi. Abbiamo individuato un partner tecnico che era fondamentale sia per il design legato allo strumento e sia per le modalità di comunicazione, di rappresentazione del prodotto innovativo che volevamo promuovere non solo all'interno dello scenario nazionale ma anche in un orizzonte di natura internazionale. Un esito particolarmente significativo derivante dall'attuazione del progetto Digital Lab attraverso il bando Switch è stato quello di in qualche modo coalizzare tutta la digitalizzazione di processo che la fondazione stava affrontando in quella fase di sviluppo e di crescita intorno alla definizione di questo strumento e quindi grazie alla realizzazione del progetto Digital Lab abbiamo avuto modo di rivedere alcuni aspetti piuttosto costitutivi. Alcuni temi sono legati per esempio a tutto il processo di semplificazione legato alle modalità di iscrizione, alle modalità di pagamento, alle modalità anche di verifica e controllo rispetto all'erogazione del corso ma non ultimo un grosso lavoro è stato fatto anche per quanto riguarda il tema del trattamento dei dati, la protezione dei dati. Grazie all'utilizzo della piattaforma abbiamo prima di tutto potuto raggiungere soggetti che per varie ragioni non ultimo per il fatto di essere collocati in zone di crisi o difficilmente accessibili non avrebbero potuto così facilmente entrare in relazione con il nostro centro e con le nostre attività ma soprattutto la piattaforma Digital Lab è diventata uno strumento collaborativo con il quale abbiamo anche potuto effettuare coprogettazione con i soggetti e con gli enti coinvolti e secondo una sorta di ciclo virtuoso che si è creato attraverso la formazione digitale abbiamo potuto innescare ulteriori ragioni e motivazioni che hanno poi creato un'ulteriore domanda verso la formazione in presenza e quindi abbiamo potuto compiere una quasi perfetta complementarietà tra erogazione digitale ed erogazione di competenze a contatto diretto con le opere d'arte. L'impatto di questa ricaduta è stato significativo fin dai primi momenti di utilizzo della piattaforma Digital Lab per esempio abbiamo potuto valutare sul 2022 un'incidenza di circa il 60% rispetto a tutte le attività di formazione che abbiamo erogato nel corso dell'anno quindi un esito estremamente concreto che ha dato ragione alla creazione di questo strumento con un fortunato sbocco non soltanto nel campo dell'erogazione ma anche di tutto quello che è la partecipazione e la pratica collaborativa che viene messa in campo nei programmi di formazione e capacity building nel settore della conservazione dei beni culturali. di questo strumento con un'esercito di 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 un'esercito